salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video come vedete sto unboxando uno shampoo che già ho presentato sul mio canale vi parlo dello shampoo annurcap perché ve lo ripropongo perché non solo lo ritengo uno dei migliori in commercio ma perché su amazon c'è un'offerta davvero eccezionale ad un prezzo imbattibile non so per quanto tempo ancora amazon terrà questo prezzo vi lascerò il link dove potete acquistarlo per chi non lo conoscesse lo shampoo annurcap contiene un ingrediente che pochi sciampi hanno come principio attivo ossia la mela annurca questo shampoo contiene oltre la mela annurca un estratto di lupino bianco dolce estratto di serenoa repens la caffeina ginseng olio di jojoba e olio essenziale di timo lo ritengo uno dei migliori sciampi in commercio perché il rapporto qualità prezzo non c'è nulla di meglio gli ingredienti che contiene questo shampoo sono tra quelli più efficaci per uno shampoo l'annurcap oltre a produrre lo shampoo produce l'integratore quindi vi consiglio anche di acquistare l'integratore associato con lo shampoo non sono sponsorizzato da questa azienda assolutamente ma perché l'ho provato l'ho testato e mi sono trovato davvero bene così anche i miei amici questo prodotto ragazzi ha una qualità prezzo imbattibile con il prezzo che oggi vi offre amazon non c'è veramente regalato ragazzi io vi consiglio di acquistarlo con questo shampoo potete lavare i capelli tutti i giorni è un shampoo assolutamente delicato vi lascia i capelli morbidi lucenti e liberi dalla forfora vi consiglio di tenere lo shampoo per due tre minuti e poi risciacquare due tre minuti sono il tempo minimo affinché i principi attivi dello shampoo possano avere i loro effetti ragazzi vi ringrazio iscrivetevi al mio canale un abbraccio a tutti